Lotto numero 305 Il lotto numero 305 è questo importante quadro di Mimmo Rotella. Idilio in Marocco, Casablanca, 2004, è un decollage, le dimensioni sono 95x125, l'opera è firmata in bassa sinistra e è stata intitolata Al Retro e archiviata presso la fondazione Mimmo Rotella. Al Retro infatti ha anche l'etichetta della fondazione, l'opera è oggetto di esecuzione mobiliare numero 110 2009 presso il tribunale di Cuneo. Viene messo in gara a 16.000 euro, 16.500 per offerta ricevuta al banco. 16.500 al banco, per la prima, per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico 17.000 euro, facciamo di 500 in 500 anche perché abbiamo fatto così. 18.000 euro per la prima, 19.000 euro per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono a 19.000 euro, 1-2-1-2-3. 17.000 euro per la prima, 19.000 euro per la prima, 19.000 euro per la prima, 20.000 euro per il gruppo di Cuneo.